Un'autostrada a due ruote che percorre tutta la Puglia, dal confine molisano di Chieuti a Santa Maria di Leuca, per mille chilometri complessivi. Non è una nuova opera da sottoporre al Cipe, ma esiste già. La ciclovia adriatica, presentata oggi nella sala giunta della regione Puglia dall'assessore Guglielmo Minervini insieme al presidente dell'Associazione Italiana Amici della Bicicletta Lello Sforza, è costituita da una rete di strade secondarie e poco trafficate che percorrono tutto il litorale pugliese. Una vera manna per gli amanti della bicicletta. È una infrastruttura in realtà già esistente, perché è composta sostanzialmente dalla viabilità minore, quella che attraverso un'analisi più di dettaglio si può utilizzare dal punto di vista ciclabile. Quindi l'idea è di utilizzarla, di valorizzarla come una infrastruttura da mettere a disposizione neanche per un altro tipo di turismo, la cui domanda sta crescendo soprattutto in questi ultimi anni, man mano che matura questa sensibilità ambientale. La ciclovia, finanziata dall'Unione Europea e parte del progetto di cooperazione Sironmed, di cui la Puglia è capofila, conterà anche su un'estensione digitale sul sito www.bicitalia.org, consultabile anche da tablet e smartphone, collegato a tutti i servizi alberghieri e di ristorazione a disposizione dei cicloturisti. L'idea che la Puglia possa diventare per mille chilometri integralmente attraversabile in bicicletta è un'altra dei tasselli che incastoniamo nella prospettiva di offerta sempre più appetibile, sempre più attraente dal punto di vista turistico per la nostra regione.